Salve a tutti, sono Wartomas46 e benvenuti in questo nuovo video nel quale vi mostrerò, dopo vari tentativi mal riusciti, la mia nuova serie survival di Minecraft. Questa serie la inizierò nella versione Minecraft 1.4.7 con un pacchetto speciale che a me piace particolarmente, che si chiama Minecraft Plus. Il link ve lo posterò in descrizione, non mi ricordo bene se si chiama così, però incominciamo. Allora, creiamo un nuovo mondo, sopravvivenza ovviamente. Lo chiamiamo serie Minecraft. Opzioni nel mondo, va bene così. Mmm, sono biomi grandi. Creiamo il mondo. Bene, intanto che si sta caricando il mondo, volevo dirvi che ho intenzione di iniziare una nuova serie, che farò dei combattimenti tra mob e in un'arena speciale che ho preso da internet. Quando inizierò la serie vi metterò anche in descrizione l'arena che ho preso e ho un po' modificato. E in modo da rendere essere più bella, ho anche aggiunto dei circuiti di redstone per dei portali, no, per i mob. E anche se questa mappa fosse usata nei server, l'ho fatta anche con le porte delle persone che combatteranno. Ok, è molto... allora, io non ho un computer molto potente, però vi devo dire che questo pacchetto è abbastanza pesante. Quindi, chi ha un computer... Un computer deve essere abbastanza potente per tenere questo pacchetto. Il mio, infatti, è un po' potente e lo è, però... Si fa sempre fatica a reggere questo tipo di... Questo tipo di pacchetto. Allora, dato che non si carica, vi dico subito, questo pacchetto comprende 201 mod. Tutto è quasi molto utile, per esempio c'è quasi tutta la tecnica dentro. Quindi ci sono i circuiti di redstone, ci sono i wireless redstone. Ci c'è la music craft, poi c'è il... Poi ci sono come pacchetti di bellezza, ci sono vari tipi di blocchi. Poi c'è la... tutta la vanilla dentro. Ecco, ha caricato, bene. Ci sono molte varie mod, ve le farò scoprire. Poi ci sono... ecco, vi dico un'altra mod che mi piace particolarmente, quella dei mostri. Mostri tipo orchi, queste robe qua ci sono. Ora, ecco, bene. Ha caricato. Non ne sono molto... ecco, poi ci sono questi fiorallini qui. Comunque non ne sono molto sicuro, ma... La tricapitator dovrebbe funzionare, ma... Ovviamente è con... Solo con le pale. Ok, ora raccogliamo la legna. Credo che mi farò una casa qui, che vedo... Eh, c'è anche una cosa bella, è la race minimap. Allora, c'è la casa delle streghe, ora vado a vedere. Ok. Ora colgo un altro po' di legna. Non so se sentite il rumore della pioggia, ma qui da me c'è un tempo di merda. Il diluvio è universale. Bene. Va bene, così. L'hug è un casino. Bene. Oh, c'è un altro pezzo qua. Non si spreca la legna, ricordatevelo. Ora, ecco, in questa serie volevo anche insegnarvi per i più... I principianti, i metodi di crafting. Quindi, iniziando dalla base, il banco da lavoro. Ok, ora vorrei andare a vedere la cosa che ho visto prima della strega. Oh, guarda, c'è... Quel bioma non so cos'è. Molto duro. Bene, comunque, ecco. La casa della strega si trova esattamente di là. Non è una casa... È il mondo di Super Mario, ragazzi. Perché qui c'è anche la mod di Super Mario. È uno di quei castelli. Chi ha mai giocato in Super Mario sa che ci sono questi castelli. È fighissimo. Ecco, la mia casa sarà questa. Poi la modificherò, ovviamente. Bene. Quindi, per iniziare, direi... Mi posiziono la mia roba. Quindi, il mio banco da lavoro, con il quale ora crafterò una porta. Non è vero. Sì, una porta. Ecco, la porta si fa così. Dei bastoni per graftarmi le armi. Ecco qua. Ecco la porta. Ora, ho anche dei semi. Li pianterò se mi farò un giardino. Se. Ora, una bella spada. Poi, con queste mod, ha cambiato anche la texture delle spade. Non so perché. Però. Un piccone. Una pala. E un'ascia di legno. Ora, abbiamo tutti i crafting basilari, ma ora mi serve una cesta. Cos'è sta roba? Bene. Non ci serve per adesso. Questa mod è piena... Cioè, guardate. 71 di questi cosi. C'è moltissima roba. Io, ovviamente, non userò mai too many items. Infatti, per non suscitare critiche. Allora, quando chiuderò il gioco, quando chiuderò il gioco, il video, non andrò avanti nelle mie missioni. Ora, la prima missione sarà prendere la legna. Su questi tipi di alberi, la tricapitator non funziona. Non so se è out of date. Che è fuori uso. Non ne ho idea. Però, mi informerò magari nei prossimi video. Guardate un blocco. Di Super Mario. Bisogna scassarlo. Ho visto qualcosa là sopra. Credo che sia una nuvola. Non so se la vedete anche voi. Ecco, una moneta. La sopra. Oltre alle piramidi di alberi. Ecco, lì. Della lava. Ah, questo è un vulcano, allora. Ecco, là, in fondo. Dove ho il puntatore, in questo momento. Eh, mannaggia, quanti lag. Aspettate, vado avanti e vi faccio ancora vedere meglio. Ecco. Ecco, quella roba là. Nei prossimi episodi ci andrò. Adesso non mi ci vuole molto a fare una piramide di terra. Una torre di terra. Qui è pieno di carne e di maiale. Fortuna per me, così non li uccido. Ecco, vediamo. Basalt Cobblestone. Ok, andiamo alla casetta. Ecco, ora mi imposterò la casa. Con questa mod c'è anche il beneficio di salvare dei punti e essere visibili tramite delle segnaletiche. Ora vi faccio vedere. Arrivo alla mia casetta. Ecco qua. Entro. Potete postarvi dove volete. Basterà cliccare questo... Ho sbagliato. Questo tasto. Ehm... Way.Edit E scrivere il nome del... Cioè, il punto cardinale... Non il punto cardinale. La cosa che volete... Cliccare. La cosa che volete fare. E poi scegliere il vostro colore. Non faccio una a caso ora, non so. Tipo rosso, va bene rosso. E ora, come vedete, vi segnerà anche i metri. E ci sarà un punto visibile che vi dirà dove è la vostra casa, in modo che non vi possiate perdere. Ok, ora, dato che ho fame, vado subito a minare, quindi, per prendere tipo 9 pezzi di cobblestone, 9-10 pezzi di cobblestone per farmi la fornace. Con cui cucinerò il cibo, perché mangiare il cibo crudo sia su Minecraft che, in realtà, è molto sconveniente. Quindi... Oh, guardate, ho già trovato dei minerali che non so... Ah, non posso scassarli in questo piccone. Ci andrò più avanti. Altri... Con questo mod trovo i minerali molto facilmente, quindi per i meno esperti è molto semplice fare delle robe così. Questo qui posso scassarlo. Vediamo. Monazit ore. Vedete, qui c'è sempre il minerale di prima. Ecco, questo qui sarà l'inizio della mia miniera. Ora che ho abbastanza pezzi di cobblestone, sì, pietrisco, in italiano, deposito prima la roba inutile. Tipo questo. Questa moneta. Ok. Ora, dato che non ho del carbone, come combustibile userò il legno. Ho sbagliato. Ecco qua, craftiamo una fornace. Il metodo è uguale a come costruire una cazza, solo che al posto del legno dovreste usare una fornace. Ecco qua. Ora, qui si mette la roba da cuocere e qui il combustibile. I combustibili sono legno, carbone, carbonella e la lava. I vasetti di lava. Però, allora, il più efficiente è la lava. Poi come secondo posto c'è il carbone e la carbonella e l'ultimo è il legno. Il più scarso, perché come vedete si consuma facilmente. Invece la lava ci mette molto, ci mette molto tempo a consumarsi. Credo, sì, ce la dovrei fare. Non lo so se ce la faccio. A cuocere tutto, ma... Io lo limito il consumo. Per adesso me ne bastano tre. Solo per mangiare. Vediamo la game mode. Game mode giochiamo in normale. Ok. Mi basta così. Ora, pappiamo la mia prima pappata. Tanto che se cuoce la roba io vado a minare. Prima, tanto, ci manca ancora un po' prima che si fa buio. Non molto, perché i tempi di minecraft sono molto limitati, però. Ok, non mi ricordo più dove era la miniera. Eccola là. Poi ovviamente mi devo fare delle torce, ma finché non trovo il carbone... Inizierò a farmi a modificare il mio piccone. Farò un piccone di pietra, perché così fa veramente schifo. Oh, guarda. Se mi da... Non mi ricordo il tipo di materiale. Ecco, questo. Con la selce, poi accumulando tante selce, avendo dei lingotti di ferro, si possono fare i... Accendini, acciarini. Perché qui siamo abbastanza... Nell'antichità. Un'altra selce, tre selci. Ora, devo solo arrivarci. Si sta facendo buio, me ne vado a casa. Ok, ragazzi. Per questo primo episodio è tutto. Ora, come luce, io userò solo la fornace. E... basta. Ciao.